Bovalino è stato presentato per la prima volta il romanzo di Mario Lacava dal titolo L'Amica. L'opera inedita è stata pubblicata a distanza di 30 anni dalla morte dello scrittore e giornalista di origini bovalinesi. Il servizio è di Tonino Racco. A 34 anni dalla sua scomparsa, il grande intellettuale, giornalista e scrittore bovalinese Mario Lacava impreziosisce il panorama letterario nazionale con la sua opera dal titolo L'Amica. Un romanzo scritto tra il 1975 e il 1977 è pubblicato per la prima volta da Castelvecchi Editore. La storia di questo libro parte dagli anni 70 quando Mario Lacava lo ha scritto. Mario Lacava riteneva questo uno dei suoi migliori lavori. Purtroppo non è stato facile pubblicarlo quando Mario Lacava era in vita e soprattutto dopo la sua morte. Quindi questa operazione è un grande successo perché crediamo nell'importanza della lettura e della rilettura dei nostri autori del Novecento. È stata veramente un'emozione molto forte perché dopo tantissimi anni, 40 anni si può dire, viene alla luce questo libro meraviglioso che noi in famiglia abbiamo vissuto capitolo per capitolo perché papà ce lo leggeva ogni volta che faceva un nuovo episodio, un nuovo capitolo. Emozione e curiosità a Bovalino per la presentazione di un'opera descritta come uno spaccato della decadenza morale in epoca fascista. Un intreccio di sincerità e di biecocinismo, l'affresco di un paese costretto a voltare pagina all'improvviso. Un romanzo a fondo storico ma anche un romanzo intimista perché Lacava ha la straordinaria capacità di rappresentare perfino il paesaggio con gli occhi e le parole dei suoi personaggi. Ed è una capacità di medesimazione che lo scrittore ha che non diminuisce il carattere analitico della rappresentazione storica di quel momento ma la colora sotto il profilo letterario di un punto di vista originale.